Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Ficheli e Luce che si dirigono all'ospedale. Luce si informa sulle condizioni di Zuleia e parla con Batiar, il quale rivela che l'incidente è stato causato da olio sull'asfalto. Ci sono voci che suggeriscono un possibile intento intenzionale. Ficheli chiede a Batiar se sospetta di Fikret, ma questi afferma di non volerlo accusare, anche se è confuso sulle sue azioni. Successivamente, Ficheli va in azienda e accusa apertamente Fikret di aver causato l'incidente di Zuleia, che lotta per la vita. Fichret, sorpreso, nega le accuse, ma Ficheli non gli crede. Ficheli gli rimprovera di non avergli detto della relazione con Umit, ma Fichret ammette di aver interrotto tutto a causa dell'odio prevalente sull'amore. Ficheli accusa Fichret di aver coinvolto Batiar e Umit per vendicarsi di Demir. Fichret nega ancora, sostenendo di essere dalla parte della verità, della pace e dell'amore. Ficheli predice che Demir reagirà violentemente quando scoprirà che Fichret è responsabile dell'incidente. In seguito, Ficheli si chiede come potrà salvare un uomo dalla tomba e un altro dalla prigione. Poco dopo, si reca al comando di polizia. Dopo qualche ora, la polizia informa Fichret che qualcuno lo ha denunciato in relazione all'incidente di Zuleia. Mentre esce dall'ufficio, Yaman vede Ficheli e gli dice di averlo denunciato perché non gli ha creduto, sospettando che sia sempre dalla parte di Demir. Ficheli ribatte a Fichret che è dalla parte della giustizia, lasciando quest'ultimo profondamente deluso e arrabbiato. Nel frattempo, Demir accorre in ospedale, dove Sevda gli comunica che Zuleia si riprenderà. Demir, disperato, è osservato da Umit da lontano. Finalmente, i medici emergono e riferiscono che l'operazione è andata bene, ma non hanno potuto salvare il bambino. Fuori dalla sala della terapia intensiva, Demir guarda Zuleia e confessa a Sevda la loro gioia nell'aspettare un altro figlio. Aykot informa che è stato Umit a salvare Zuleia, bloccando l'emorragia, altrimenti non sarebbe sopravvissuta. Sermin, nel frattempo, apre una lettera di Sebatin, che contiene una richiesta di Ayla Umit. Sermin collega immediatamente il nome al primario e si chiede come Sevda potesse conoscerlo. Gafur va da Demir e gli riferisce dell'arresto di Fichret come responsabile dell'incidente. Demir, fuori controllo, corre verso di lui mentre Sevda cerca di calmarlo. Nel frattempo, Fichret è sotto interrogatorio e si proclama innocente. Demir arriva con una pistola cercando Fichret, ma viene prontamente fermato e messo in cella per placarlo, mentre urla minacce di morte. Nel frattempo, Fichret confida a luce di aver denunciato Fichret per salvarlo da Demir, che sarebbe impazzito e lo avrebbe ucciso. La telefonata del capo della polizia interrompe la conversazione, confermando che l'evento previsto da Fichret si è verificato, Demir è ora rinchiuso in cella. Poco dopo, il comandante della polizia va da Demir e lo libera, dicendogli di comprendere la perdita del figlio, ma che deve rispettare la legge. Tornato in ospedale, Demir veglia su Zuleya mentre Umit la osserva dalla porta e poi se ne va. È sera quando Sevda si reca a casa di Umit e subito si abbracciano. Poi, Sevda mostra a Umit una cuffietta di quando lei era appena nata, spiegandogli che è l'unica cosa rimastale dopo che la nonna e la zia l'avevano rapita. Umit, esprimendo sempre di aver sentito la sua mancanza, le chiede se dirà a Demir che è sua figlia. Intanto, Demir assiste al risveglio di Zuleya, la quale gli chiede subito del bambino. Dal suo silenzio, capisce che lo ha perso e scoppia in lacrime. Lui cerca di consolarla, dicendole di non essere triste e che supereranno insieme la situazione. Cettina arriva per avvisare Demir che deve recarsi immediatamente in caserma perché Fikret non è colpevole. Fikret viene poi liberato e, vedendo Fecheli che lo aspetta, lo accusa di aver creduto alla sua colpevolezza nonostante fosse innocente. Gli dice che non è più suo zio. Demir, nel frattempo, è con il comandante della polizia che gli spiega la dinamica dell'incidente. Poi, lo porta dal responsabile, il quale, vedendolo, inizia a piangere e gli chiede perdono. Spiega che è stato un incidente causato da un colpo di sonno e prega Demir di perdonarlo. Quando Demir esce dalla stanza, trova Fecheli ad aspettarlo. Quest'ultimo gli rivela che Fikret è innocente. Ma Demir non lo ha ascoltato e lo ha denunciato perché sapeva cosa sarebbe successo tra loro due. Ha voluto proteggerli, ma ha finito per ferire Fikret e commettere un grave errore. A questo punto, c'è un salto temporale di dieci giorni. Zuley è tornata a casa e sta bene, e Demir la circonda di attenzioni mentre lei gli assicura di sentirsi molto bene. Nel frattempo, Rashid va da Fadik in cucina con un mazzolino di fiori, ma lei lo respinge sputandogli addosso. Gli dice che è un uomo disgustoso, ma lui risponde che sono stati costretti a sposarsi e che lei era già incinta quando l'ha conosciuto. Giura che non è vero che il bambino è suo perché non l'ha mai toccata. Ghaffur arriva e inizia a picchiarlo, cacciandolo via e insultandolo. In ospedale, Umit riceve un mazzo di fiori con un biglietto di ringraziamento da parte di Zuley e Demir. Poco dopo, Demir la chiama per ringraziarla, e lei gli confessa il suo amore, esprimendo la difficoltà nel comprendere come la loro storia si è giunta al termine. Demir risponde che è finita e le consiglia di guardare avanti, poiché è giovane e troverà qualcun altro capace di ricambiare il suo affetto. Mujgan raggiunge successivamente Zuley e le rivela che Demir le ha inviato dei fiori, ringraziandola per aver salvato la vita di sua moglie. Tuttavia, le confessa di chiedersi continuamente cosa sarebbe successo se non avesse salvato Zuley e di amare Demir profondamente. Anche se non è in grado di ferire un innocente come Zuley. Nel frattempo, Sermin si presenta nell'ufficio di Demir, mostrandogli un documento inviato da Sebatin. Gli rivela che il nome di Umit è Aila, informazione conosciuta solo da Sevda. Uscita dall'ufficio, incontra Luce e le racconta della sera in cui Sevda gridava il nome Aila in giardino, negando successivamente di averlo fatto. Scopre che Aila è il vero nome di Umit, e solo Sevda ne ha conoscenza. Luce, consigliandola a non esagerare, la lascia con una scusa. Luce si reca poi in ospedale, dove, vedendo Umit, lo chiama Aila e gli chiede perché ha sorpresa. Umit le domanda se Fikret glielo ha detto, e Luce gli rivela che Fikret conosce i suoi segreti. Le chiede cosa ci sia tra loro due, e Umit risponde che sono solo amici. Luce sostiene di sapere chi è la sua ragazza e gli chiede spiegazioni sul suo viaggio a Kukurova e sui loro piani. Umit afferma di non capire cosa voglia da lui, ma Luce cerca di convincerlo a rinunciare ai loro progetti per evitare di rovinarsi reciprocamente. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti! E se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi voglio il continuo nei commenti, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Scriviti al nostro canale! Scriviti al nostro canale!